Grazie a Fausto e intanto vorrei ringraziare lui e l'Università Ca' Foscari perché gratuitamente mi hanno fatto un grande studio nel senso che mi bloccava molta della documentazione che loro hanno fatto a conforto di tutto il lavoro che in 5 anni io sto portando avanti in Italia e io sono partito nel 2013, non credo che ho cominciato a girare qui in largo, ho cominciato a comprare delle cose la mia deformazione professionale precedente che lavoravo nel marketing commerciale della grande estremazione ovviamente mi ha portato a dire beh forse cominciamo a fare qualcosa per questo cavallo, questo territorio mi sono chiaramente ascevato la mia domina 7 anni fa e da lì ho cominciato a comprare questi percorsi ovviamente mettendo insieme perché quando vai in giro non è che paccheggi la macchina, hai un cavallo devi pulsare a lui, io oltre a me e anche la mia pancia insomma, ma già lui dicono già anch'io allora ho cominciato cartografia ovviamente piaciando molto nella mia vita precedente di lavorativa ho fatto, mi tracciavo di percorsi così a spanni e ho cominciato a lavorare nel territorio insomma, nel 2013 ho fatto la prima fiera cavalli chiamandole i postrade e i guai provocatoriamente perché in quell'anno insomma con l'epitalia c'era un po' di casino, però insomma la curiosità era tanta, l'anno dopo invece ovviamente ho cambiato il tuo registro, ho brevettato dei macchi, l'incivirante ovviamente perché il mio obiettivo non era quello di fare una cosa dell'orto, una navegata, e creare tutto un discorso turistico, quando si lavora con il turismo non è che si lavora con l'amico della porta accanto, ci sono dei requisiti di sicurezza, ci sono tante norme che in Italia ci sono, all'estero non è così, siccome noi siamo qui dobbiamo rispettare queste regole. In queste regole ho cercato di trovare il mezzo più comune, più semplice per farlo capire anche a questo mondo che non è così farsi trovare dei presidenti o dei proprietari di maneggio di turismi che capiscono poi qual è il fine di quello che si sta facendo. Insomma sostanzialmente poi ho fatto il Castello del Gusto sempre a Fiera Cavalli nel 2014, abbiamo fatto il padiglione del turismo, è stato un mezzo blocco per arrivare poi all'idea di costruire un tavolo comune e cioè con l'ente Fiera abbiamo fatto una convenzione appunto per portare avanti questo grosso progetto che siamo arrivati a far partorire il 10 agosto del 2017 che si chiama Consorzi Impostrade Europei. Perché che impostrade? Perché ci sono delle norme internazionali che regolano le ipovie e basta. Siccome in Italia abbiamo una lunga stretta e montaggiosa, certi requisiti secondo me non ci sono. Allora è inutile andare a venturarsi su qualcosa che poi non puoi dare usufruire a tutti. Le impostrade sono passo lento, vicino a casa, percorsi da tre ore a qualche giorno, organizzati dal centro di riferimento. Io personalmente ho fatto più di 1500 chilometri, raggruppando ovviamente strutture all'interno dei percorsi che sono i Consorzi del Vino, le strade del Vino, gli agriturismi, Ben & Breakfast, le aziende produttrici piccole o medie. Un lavoro da zero a 1000 metri di altitudine, cioè la pedemontana italiana, oggi è Veneto, domani è Piemontese. Perché ritengo che un mondo futurista che sappia, o meno, perché da me ne sono passati qualche centinaia, oppure se è uno che lavora con i lavori da sette anni, fortunatamente è difficile organizzare un percorso che non sia già a 1000 metri. L'idea poi, insomma facendo appunto il manager prima, era quella non di dire che mi focalizzo su quello che faccio per me, a casa mia e basta, ma creare proprio un'azienda del turismo itinerante in Italia, cioè offrire al turista americano, perché poi tutte queste cose sono venute in questi ultimi tre anni, perché il turista mi chiedeva, ma io posso andare a fare un giro una giornata alla? Posso andare a fare una giornata di là? Allora lì ovviamente ho messo insieme una serie di maneggi, ovviamente siamo 5 maneggi in Italia, copriamo quattro regioni, ci siamo posti degli obiettivi, ho creato un gruppo di lavoro, ovviamente sempre con la vecchia scuola dei quattro aeromenager e con un responsabile regionale, stiamo creando un po', stiamo formando un lavoro piano, perché ovviamente a casa mia si pasta mia fritto senza la moneta e con le ciapre non si fa niente, allora creiamo un po' di cose insieme, l'idea era quella di creare una rete di imprese, purtroppo la rete di imprese con i moneti, con l'Sd in Italia perde i requisiti della 398, e io sinceramente, nel prenditore, passatevi insomma da Cavallaro, ho detto no, perché la la struttura ce l'ho anch'io, se non fosse così il reggio è chiuso, pur avendo un calcolo e allora con i tecnici fiscali che io studio, che mi serve da mia spalle, ho detto dobbiamo trovare un'altra soluzione e la soluzione è stata, abbiamo una rete di imprese strutturata con un'altra soluzione, cioè con un'altra soluzione è